Buongiorno a tutti amici di Fegati Spappolati, oggi 6 dicembre, ieri il Brasile ha vinto 4-1 contro la Corea, stavo facendo una passeggiata nel bosco e ad un tratto ho notato qualcosa, eh sì, cosa ho notato? Una bombetta. Ci vediamo tra qualche giorno piccolo. C'è chi dice che sono finiti, secondo me dice una cazzata.